della grotta a U ok va bene questo è il dio l'Albano questo è il mio primo questo sono i gremiani questo è il dio l'Albano, sentite si sì Albano, fa tutto no, non è che stai a fare, che stai a fare la calvincia Ma dai erano vecchie cose eh, vuoi sentire Baglioni? Ok, vasco non lo faccio perchè devo fare delle cose prima per fare, che forti che siete miei, sta macchetta rosa da finocchio mi da una possenza, una veridità, poi ho sto il microfono in un po' che è gelato, chiamassi gelato. Ok, adesso mando le ciance, il mio tecnico Mirko. Mi tengo così come il giornalista. Allora carissime ragazze, come vi chiamate? Ti ho svegliato tesoro? Mangiando bene? Quanto buoni sono? No veramente? No i ragazzi, quanto buoni sono i panini? Ok. Allora io adesso cosa farò stasera? Niente ma lo faccio benissimo, ve lo giuro. No, io verrò qui o da voi, no? E vi faccio vedere il mentalismo che è un po' puro con la P di pesce di papparallo. Mi fai senso stasera? No, con tutto rispetto tesoro. Sei mangiato una costata, seguo così, sei mangiata una costata che non lo sto. Sì, poi dopo la costata va dentro, voglio che lo senti. Non tu sei fuori. Ok, sedemi, c'è te. Sì, no, infatti, no, sapete cosa c'è? Si sente adesso? Ok, perfetto. Allora io vi farò un'altra cosa che è di fare col mentalismo. Ci credi al mentalismo? Credi che la psica o psicologia può arrivare a un 70 per cento? Ci credi? Sei malato? Si credi? Ok, disorda. Puoi dire per la prima volta che tu ti credi che l'hai? Sì. Non ti pago più? Sì. Che sta passato, sto porno? Si va da benissimo. Ok. Allora, ascoltami benissimo. Io prendo un mazzo di carte. Che bravo. Per questo giorno sono un mazzo di carte. Ok. Le vedi un mazzo di carte? Le lenti le messe bene, giusto? Ok. Io pescolo in modo che non pensiate che ci sia, che ci sia cosa? Ok. Quindi le carte sono interessate. Giusto? Adesso scontri bene. Io apro le carte, ok? E tu le pensi? Tu prendi. Io non guarderò mai perché vedete solo tu. Vedete? È tutto cartonissimo. Vai. Toccando la cella. Fuori. Prendi. Toccando. Questa. Ciccola. Guarda bene. Ce l'hai? Adesso io non farò il capitimento voluto. Sei d'accordo che non posso mai sapere al mondo? Da tuo cartone. No. Prendi. Scusami. Ok. Se vuoi? No. Scusami. Sei d'accordo che hai dato con il suo cartone? Oh, mi scontate? Con il suo dato. Ma siamo tutti. Ok. Basta perché questo 50 euro. Ascolta il ministro. Sei d'accordo? Sei d'accordo? Segno che ti ho dato. Fatti bene, giusto? E mi fa. Mi fa. Ok. Allora, sei d'accordo per la carta pubblica. Adesso guarda. L'hai vista? L'hai vista? L'hai vista? Vero? Ora guarda. Guarda. Io credo che la tua carta sia segno credo. No? Però, ecco, da passare presi. Segno. Vai. Tu l'hai sola? No, ciao. No, ciao. Allora, vi spiego come funziona. No, vi spiego adesso. Con l'aria. Cambia. 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 Faccio, no? Tu mi insegni. Allora, allora, facciamo così. Facciamo così, facciamo così. Come ti chiami? Pino, giusto? Per gli amici avete. Allora, prendi una carta, figliolo. Ascolta il ministro. Quella, questa è l'ultima, le facce, fare più difficile. Questa? Sicuro? Guardami negli occhi. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Guarda, 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 guarda. E vabbè, dice, c'è l'occhiale che perfetto lo soggiorno. Eh, eh, ti ho detto. Allora, cosa ti ho detto, dopo i 10 anni, sono formato oggi. Allora, ragazzi, adesso passeremo alle gonzelle, ai gonzelli, agli amici cari uscirebati, ai nostri amici che sono, me ne potete invitare. Facciamo, facciamo. E poi, rispetto alla signora nora, che si tocca i capelli, rispetto a questo vento sul tavolo, che veda qua. Tanto è gratis, signori. Quindi, se ne va, prendiamo un piaccio di mezzo. Ok. Allora, agli unifo. E' veloce. E' un taglio. E' un taglio. Immagina che arriva da lì, no? E' un taglio. 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 Ok. L'abbiamo. E' un taglio. E' un taglio. E' un taglio. Quando a te. Guarda dei miei e mezzo. Ti ho fatto? Io posso mai sapere Antonio? Antonio. Ma che cosa mi hai fatto? Antonio? Antonio, adesso mi è arrivato più, Antonio mi ha aiutato, ma Antonio, vi fate un applauso poi adesso, fate un bel applauso, perché c'è, mi mettiamo le carte, mi fanno firmare la domicilio, e mi franzo qua, allora facciamo così, adesso andiamo a giochi invece a giochi per esperimenti professionali, si, io apro così le carte, pensa alla donna di Pite, dici stop, quindi giusto? Ho detto la donna di Pite, giusto? Ma dove hai fatto? Allora, facciamo così, guardiamoci, 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 qui, ma voi volete farci meglio, va bene qua, ok, adesso questa è la tua carta, giusto? Se d'accordo? Adesso, dimmi, questa carta qua, ce l'hai solo nella tua, guarda, l'ha vista? Quello l'ha venuta, la vista? Ma loro l'hanno vista, e fai vedere la carta, ok? Ok, ci sei? Potemmo così? Ci sei? Adesso metti la carta qua, e lo dai la possibilità, adesso la carta, ecco, io non posso mai sapere, questa carta la vuoi ponere, la vuoi cambiare, segui, devi fare quello che vuole, va bene? Ok, io ho un'ombra da provare, esattamente questo è il suo nome, è il suo nome, l'ho definito, le carte, mi dicono che la tua carta è una carta rossa, è una carta rossa, è interessante, ma è finita, no? Perché la prima carta mi dice che è rossa, e mi dice che le vuoi, guarda, le vuoi, ok, adesso andiamo in questo e lo facciamo, ok? Allora, in cominciamo, guarda, 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 il coso può, sei lì, uomo, e lo lascio un po' così, giusto? Stringi la carta in mezzo, brevissimo, e adesso, dov'è? Brevissimo, in mezzo giusto? Quattro, e qui no? Cos'è? Un setto giusto? E qui sotto? Un asso, schiaccia il bussante, e chiaramente si, aspetta, aspetta, io quello sei, spingi la carta, e allora, Ernest, tu c'hai due spalle che fanno paura, se sbaglio, gioco meno, ti giusto? Però lui è disinteressato, vogliamo farlo, anche lui, attirarlo, ok, niente, ma è che lì, samano che a capire, qual è che sei. Ok, allora,位, se sbagliamato qui ti giusto? Io crediamo sia, tutto a mia, perché, niente più sbagliato, ��고 si attivoi, quindi va a r volume, va a r farlo. Autore, come si starebbe, a che level di iaciare, ovoha si scaggecho. Toccucio, il rispottore che ci box formano, tutto. Grazie.